E una cosa è te, Eva. A tutti voi dell'Aquila, con voi. Purtroppo mi devo dire che noi cerchiamo di parte a giustarsi in tutto questo successo, però lo Stato non serve di più. Tutto loro che stanno venire in televisione... E Roma-Metta! 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 Quei giorni sappiano da con me che stessi una cosa. Tanti non hanno capito. Noi siamo molto nuovi. Abbiamo la testa dura, quindi, la testa tosca. E a me è una cosa nuova. Se ti senti, ti senti, ti senti, ti senti, ti senti, non 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 ti senti. E Roma-Metta! E Roma-Metta! C grazie a chi, con 40 o 50 grazie, abbiamo sentito veramente i genitori di Stefano Cucchi e i statali, i stati, i stati, i grossi, i bravi, i ragazzi, noi adesso, prima i genitori, prima i genitori, i genitori di Spasco, porteremo loro la parola, internavano insieme a persone che sono venute con loro, sono stati fantastici quelle due ore passate insieme, perché forse vuole loro, penso sempre che le cose siano, come dicono, adesso, attivista che il giornale, il televisione, noi diciamo solo che niente non vuole, qualcuno ha detto con la centra cucchi con l'Atalanta e allora con la centra l'Ampidarelli, con la centra Rwanda, con la centra la vita visabile con la centra la tante cose con la centra e noi abbiamo la fortuna, e noi penso, forse qualcuno fa, c'è anche qualche curio non ci sta, con la cura per andare, non ti guarda l'Atalanta, perché l'Amancio fa anche qualcosa per sentire noi abbiamo, abbiamo un cuore grande, ma tutti più in Italia, abbiamo 40 anni di vita ma fino a 57-9 anni, perché alla fine di 9 anni di lavoro, di cambiamenti, di unione qui non ci sono amici, eppure avere 5 amici sulla mano, forse anche di meno di altro qui c'è il rispetto, il rispetto che si deve venire a tutti noi per una bandiera, per un colore, per una schiazza, per un colore, per una schiazza e noi, vogliamo dire a quelle persone che cercano sempre di metterci a dorso merda, merda, merda vogliamo sempre di rimangere, perché noi abbiamo la coscienza a posto perché la solidarietà è l'unica parola che ha sempre dato tra l'ulta che ha 15 anni, che ha 15 anni, che ha 15 anni, che è l'Atalanta, che è l'amicizia che è il lavoro di stare a cura i nostri amici sui, i nostri amici sui, seppure voi avete conosciuto, è stato salutato vado a dire attenzione, con una schiazza a tutte quelle persone che sono venute a mancare, sono state, sono state da una curva la persona da curva, è stata un'altra relazione che porta tanta gente vicino all'alta questa è stata l'alta, sempre di appartenenza e voglia di Atalanta e questa quella qua, teniamocela stretta per il patrimonio che nessuno ci deve distaccare nessuno che venga il territorio di cucchi e sangue stasera, come venga l'acqua, come noi vedremo la prima cosa che faremo in futuro, perché ci sono questi risultati e il tutto ci sono i nostri amici, è questo ci sono i nostri amici per così cominciano, il papà e la mamma di Dettola Pupchi è il papà di Gavirele Sandi, un applauso di conto Grazie mille. 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 Grazie mille.